Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna. Ve la ricordate questa vecchia postazione? La mia camera da letto. Ma perché siamo qui? Perché? Perché c'è una promozione che potrebbe interessarvi. Mi giro verso la testiera del mio letto per mostrarvi, ma ve lo ricordate sicuramente, questo piccolo ma preziosissimo cuscino. Lo vedete bene? Ecco ve lo faccio vedere che ha questa curvatura molto particolare, ha questa federa tipo seta, ma ha la morbidezza, assolutamente la morbidezza della seta e con un taglio molto 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 particolare. Vi invito naturalmente ad andare sul sito di Slip and Go per vedere meglio il cuscino e per tutti i dettagli tecnici. Naturalmente la federa si toglie molto facilmente con questa lampo, non è assolutamente faticoso mettere la federa, toglierla, assolutamente no e vi posso garantire che di una comodità pazzesca come dire sfilare e rinfilare la federa. Ma oltre a questo è fatto in una forma particolare che renderà le vostre notti molto più, ma molto ma molto ma molto ma molto più confortevoli. Fidatevi. Ora naturalmente come troverete nelle istruzioni che vi mandano insieme nella scatola, non vi aspettate una scatola gigantesca perché come vedete il cuscino non è gigantesco, è piuttosto piccolo. Lo vedete? Ecco così lo vedete bene. Guardate che forma particolare che ha. Vi potete mettere così sia di fianco se dormite sul fianco e il viso quindi non verrà compresso con conseguente formazione delle odiatissime rughe, né subirà diciamo alcun trauma pressorio perché proprio verrà a posizionarsi sopra questi avvallamenti. Naturalmente potete molto comodamente essere in questa posizione e si forma questa piega ma vi assicuro che quando è giù non c'è nessuna piega. Poi potete dormire comodamente a pancia in su che è la posizione super super consigliata dagli ortopedici perché poggiate la vostra nuca qui che ha appunto ha un avvallamento che rende la postura assolutamente e totalmente confortevole. Uno dice ma io dormo a pancia in giù. No amica o amico alla pancia in giù viene assolutamente sconsigliata dagli ortopedici, dai fisiatri, dagli osteopati e quant'altro perché non va bene. Vi si storta il collo, non va bene. La posizione migliore è a pancia in su oppure su un fianco. Però su un fianco il viso subisce delle pressioni con questo cuscino non subisce un bel nulla e le istruzioni che trovate nella confezione vi consigliano di fare qualche giorno di prova perché è molto diverso, è completamente diverso da un cuscino o quei cuscini a cui siamo abituati. Io devo dirvi che a me mi ha cambiato molto, cambia. Voi sapete che io soffro di problemi di sonno, vado molto meglio. Naturalmente io non dico che adesso vi basta il cuscino, io ho fatto anche altri trattamenti, altre cose per favorire il sonno. Non sto parlando di sonniferie ovviamente e quindi rende il mio sonno molto molto più confortevole. Ma perché lui dice ok Paola ce n'è già parlato a luglio ma che vuoi? Niente volevo dirvi che solo per la settimana che inizia domani quindi da mercoledì 6 a mercoledì 13 ottobre. Se andate sul loro sito con il codice tutto minuscolo Gattaluna 15 15% otterrete uno sconto immediato del 15% quindi è molto interessante. Andate a vedere sul loro sito anche solo per farvi un giretto. Ah ecco altra cosa interessante all'interno della federa se volete io l'ho fatto perché a me serve inserire questo come dire questo piccolo spessore aggiuntivo che se preferite un cuscino più spesso se invece non lo volete lo tirate via. Io vi ripeto lo trovo fantastico poi è piccolo e compatto e vi devo dire che io lo metto in una borsa in una shopper e di cotone e ragazzi e ragazze sta anche in valigia eh se magari state via per un periodo lungo eh ve lo potete portare appresso perché eh ripeto non è vediamo se così si vede meglio vedete non è lì c'è il cuscino di mio marito sullo sfondo ecco questo è come vedete non è poi così grande non so darvi le misure esatte ma vedete accanto al mio busto insomma dove mi arriva ecco non è non è particolarmente eh grande. Quindi amiche e amici dalla vostra gattaluna o se volete eh in fondo se c'è qualcuno di voi ecco diciamo bene se c'è qualcuno di voi che sta pensando di comprarsi un cuscino ortopedico perché soffre di cervicale perché non dorme bene perché non sa che accidenti di posizione assumere per favorire l'addormentamento e un sonno confortevole eh e un risveglio senza dolori doloretti o comunque con meno dolori e doloretti ehm non solo alla mia età ma anche gente più giovane molto più giovane di me eh se state pensando all'acquisto di un cuscino ortopedico date un'occhiata sul sito di Sleep and Glow e quindi eh in modo da vedere le offerte le poi tutte le istruzioni belle dettagliate fatte bene eccetera eccetera. Con il codice ripeto tutto scritto piccolino e ve l'ho preciso anche nell'infobox ehm Gattaluna 15 e per intesa come percentuale e avrete questo sconto immediato senza un tetto minimo di spesa assolutamente e potrete perché no usufruire visto lo sfondo ci sono tutte le foto di momenti familiari importanti e anche di amici eccetera. Va bene era un po' che non giravamo in camera da letto così vi fa ve l'ho fatta un pochino ricordare. Ecco qua quindi questo è il cuscino a me è stato omaggiato dall'azienda e questo è importante da dire ma devo dire che ve ne parlo bene perché effettivamente è un gran cuscino che vi può cambiare non dico che vi cambia la vita ma la qualità del sonno sicuramente sì. E niente le precisazioni ve le metto nell'infobox e ricordatevi però che questo sconto particolare così significato abbastanza significativo dura soltanto per una settimana quindi da domani 6 ottobre fino all'altro mercoledì 13 ottobre poi non magari arriveranno altre cose ma questa offerta termina. Quindi amiche e amici abbiate dalla vostra gattaluna un bacione io vi saluto vi auguro splendide nottate serene notti piene di bei sogni e se trovate un cuscino confortevole è meglio ancora. Vi ricordo naturalmente che io sono su instagram come gattaluna kimono blu e sono anche su pinterest come kimono blu gattaluna e niente ricordatevi come sempre di fare quello che vi fa stare bene e il rossetto è uno splendido rossetto da sera dominic di clio makeup shop e quindi non mi resta che dirvi scusate non voglio incocciare col dito alla prossima ciao amiche e amici